Pronto? Pronto Caterina? Si? Uiii, come ti senti? Come stai? Bene Niente, ti ho fatto una telefonata così per farti un salutino E tanto che non ci si sente niente, adesso sto qua a Latina, ti sto chiamando da casa mia di Latina Sai che ho aperto il nuovo agriturismo quello che ti dicevo tempo fa in pratica Pronto? Mi senti? Si Niente, volevo dirti che siccome ci stanno le feste e c'è avanzata parecchia roba Ci sono anche le salsicce, i prosciutti, i formaggi Se vuoi ti mando qualche cosa a casa insomma Beh Dimmi tu, ah guarda ci abbiamo il cacciatorino, i salamini quelli piccoli Poi abbiamo i pecorini, i tomini e vari formaggi Ti puoi immaginare, poi abbiamo un vino buonissimo del Salento E facciamo anche le bottigliette quelle da mezzo litro Pronto? Pronto? Ma guarda basta che me lo dici, tanto noi abbiamo le spedizioni che partono lunedì mattina E devo andare su tutto dal nord e devo fare il Veneto, la Lombardia, il Trentino, la 22 presente? Eh Basta che mi dici, e abbiamo anche il pane sardo, il pane curassau, presente? Si Niente dimmi te che cosa ti posso mandare, che così assaggi ti piace insomma Ah quello che vuole Eh si, me lo dici al telefono, ti piacciono i salamini? Si I cacciatorini? Quanti ne vuoi? Ah non lo so 5? Anche 10 10, aspetta che mi disegno Allora di vino, quante bottiglie ti mando? C'ho anche i fiaschi, quelli sono buoni quelli eh Mhm Facciamo due? Mhm Senti poi c'ho anche l'olio piccante e l'olio a tattufo che quello è proprio buono me l'ha regalato un mio amico sempre lì da zona No no Non ti piace quello? Facciamo allora il pecorino, ti mando una forma Mhm Quello ti piace? Vedi vedi sai scegliere bene Caterina Comunque senti io poi passo anche a Milano no? Pronto? Si Io passo a Milano settimana prossima intorno a giovedì a venerdì ho prenotato un motel Se vuoi venire non so passiamo la notte Hai capito? Si si Passiamo insieme la notte Eh scusa mi sono imbarazzato di questa cosa qua mo eh sai com'è? Io c'ho anche la mia età però sono sempre sveglio in quel senso vabbè Perché c'ho l'agriturismo e per quello Eh si è in testa E niente e poi se volte posso Eh vedi Pronto? Si Aspetta che ti passo pure un mio amico che ti saluta Aspetta eh è fortissimo questo aspetta eh Caterina Si Ciao Buonasera Sono Bambu Mhm Cosa devo fare? Cosa devo fare il telefono Caterina? Per i salami? Eh non lo so ma Ne metto dieci allora come richiesto Ma li facciamo passare dal via? Ah certo E se compro le case verdi? Eh beh fai guarda Pronto? Oh Proviamo insieme a fare un la? Mmh anche se Eh? Anche le Proviamo a fare un la insieme? Mhm Dai uno due tre La No bisogna dire la Uno due tre Ah insomma Proviamo una volta Ci siamo? Si si Allora io parto eh Uno due tre La 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 Mariangela va in campagna No è questa la canzone? Ah non lo so Io la Io le metto dentro anche il cd nei salamini quindi Mhm Così ascolta la musica Certo Mentre mangia Eh Segu de fa Tomasone Mhm Chiamo Tomasone Lo chiamo eh Chiamo Tomasone Caterina Eccoci qua Hai visto che simpatico mio amico? Eccomelo E guarda che è pure un bel ragazzo sai Tutte le donne che lo vanno a cercare Pronto? Oh Senti un po' ma tu ce l'hai Romo? Mhm Ce l'hai? Due Due? Mhm E facciamo quattro che ci stiamo pure io e Bambu Bum Eh si eh Va bene Senti guarda che ti pensi veniamo a trovare Mhm Giovedì sera? Certo anche venerdì Anche venerdì va bene insomma li ti portiamo fuori a mangiare poi se vamo eh Si si Va bene va bene sempre disponibili diciamo anche noi eh perchè anche se abbiamo la nostra età uè Eh Come si dice Funziona la mazza eh? Ah non lo so Eh te lo dico io che funziona mortacci sua ovunque bambuccia la mazza eeeh altro che salami qui del cacchio che te manno mortacci tua mia Ti capi? Va bene? Va bene Senti allora è stato un piacere enorme sentiti? Mhm Non vedo l'ora di abbracciarti così ti schiaccio un po' a me che mi piace e niente e solite cose va bene? Mhm Mi dai un bacino? Eh Mua Da un bacino mua E dammi sto bacino? Pronto? Ma lo dai un bacino dai un bacettino Mi dai un bacetto? Si ha fatto E non l'ho sentito Ma vedi allora ci vuole l'apparecchio Ma senti e dov'è che me lo mandavi il bacino? Pronto? 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 Hai sbattuto giù la cornetta? Pronto? 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 Pronto?